Bene, Tommaso Fina ha titolo di studi da terza media, ma da anni si dedica a studi e ricerche. Questo è uno dei miei tanti libri, vedete? Cosa riguarda? Valutazione degli immobili. Appunto, questo è un argomento che investe questa documentazione depositata agli atti del comune di Luco de Marchi. Mettete la ferma immagine e informatevi su questi fabbricati edificati su strada pubblica che da anni non pagano tasse, ripetete gente. Andate all'ufficio tecnico, all'ufficio tributi e guardate bene quest'altra documentazione. Sapete leggere? Mettetela per l'immagine e leggete con calma. Altrettanto quest'altra documentazione ed altrettanto anche questa documentazione. Questa è la buonanima di mio padre. Grazie. 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 Grazie.